Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6. La nostra rassegna stampa inizia subito con le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dal centro che già vedete alle mie spalle. Il titolo di apertura purtroppo è di cronaca nera, precipita dalla scala e muore. Cepagatti, operaio di 44 anni, perde la vita mentre effettua le pulizie in azienda. Andiamo nel taglio alto, altra notizia importante della giornata di ieri. L'inchiesta su Rigopiano, provolo l'ex perfetto di Pescara, tre ore da IPM, mostra l'atto che lo scagiona, così come ha raccontato il suo legale Domenico Cagliazza. E poi il sitino a Pescara e l'Aquila oggi per la protesta dei medici sciopero di 24 ore per i tagli alla sanità. Andiamo adesso a centropagina e troviamo nella fotonotizia questo siparietto fra il sindaco di Pescara e l'assessore Civitarese. Il sindaco come Benigni abbraccia l'assessore Civitarese. Non si dimette, lo ha detto lui stesso, ma lo aveva detto qualche secondo prima anche il sindaco di Pescara. Ieri, prima della conferenza stampa per fare il report dell'attività legata agli stati generali della mobilità, c'è stato questo simpatico siparietto fra il sindaco e il suo assessore. Poi nelle cronache il giallo di penne, i cani detective cercano lo scomparso. Andiamo a vedere, i carabinieri non si danno per vinti, non credono che Vincenzo Perruzza, 74 anni di popoli, possa essere davvero svanito nel nulla senza lasciare tracce. Ed è per questo che ieri hanno fatto arrivare da Bologna due cani del nucleo cinofili specializzati nella ricerca di tracce ematiche di cadaveri sommersi. E poi ancora il nuovo centro commerciale Megalo 2, dietro front di Megalo 2, i lavori restano fermi, il cantiere viene riaperto, ma i lavori per costruire Megalo 2 non partono, almeno per ora. Il progettista Domenico Merlino fa sapere che attualmente sono in corso solo le attività relative alla pulizia dell'area e al ripristino delle recinzioni. Ieri c'è stato un sit-in da parte di associazioni ambientaliste e dei commercianti. E poi il calcio di Serie B, Sebastiani in Romania, il Pescara, fa mercato. Andiamo a vedere all'interno i richiami dalle cronache nazionali ed estere. New York, panico e feriti per la bomba in stazione, attentato vicino a Times Square, tre linee del metro evacuate, tre feriti non gravi. Fermato a Kayed Ullah, 27 anni, originario del Bangladesh, ex tassista, avrebbe agito per vendetta contro i raid di Israele a Gaza. L'uomo aveva indosso un tubo bomba, dunque un ordigno artigianale. E poi il dibattito, le linee forti, l'etica e l'arma, anticorruzione, il dibattito ieri all'Università di Chieti. Nel taglio basso troviamo il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, l'azzardo del perdono per i ladri di reliquie. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, cambiamo edizione, questa è la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. Il titolo di apertura, muore bruciata mentre cucina. A Lanciano le prende fuoco il vestito, la scoperta fatta dal nipote soltanto il giorno dopo. E poi a centropagina ritroviamo il Megalo 2, dietro fronte di Megalo 2 le ruspe restano ferme dopo il sit-in contro il nuovo ipermercato. Nelle cronache lancianese a Mantua lo scrittore Valerio scomparso da casa. Sono ore di apprezzione per le sorti di Ernesto Valerio, scrittore 34enne originario di Lanciano, scomparso ieri mattina dalla sua casa di Mantua. Il giovane è uscito presto per andare a due appuntamenti di lavoro fuori dalla città lombarda. Da allora la moglie, che ha sporto denunce ai carabinieri, non ha più sue notizie. Da Vasto, finte nozze in 28 rischiano il processo. I matrimoni erano celebrati a Santo Domingo. Le spose però, una volta in Italia, lasciavano i mariti. Gli sposi erano pagati da un'organizzazione che lavorava per far ottenere alle Caraibiche la cittadinanza italiana. 28 le richieste di rinvio a giudizio. E poi troviamo il calcio. Aielli lascia il Chieti. Decisione sofferta. Continuiamo con la lettura del quotidiano Il Centro. Questa è l'edizione di Teramo. Anche qui il titolo di apertura e di cronaca. Schiaffeggiata e rapinata in casa. Aggressione a Casemolino. Nea Roseto, un uomo sequestrato dai ladri. A centro pagina, il progetto pilota all'ospedale Mazzini. Rianimazione aperta per i parenti dei pazienti ricoverati. E poi, nelle cronache, un effetto della crisi in comune. La gestione è scaduta. Chiude la piscina. Siamo all'Acquaviva a Teramo. La gestione dell'impianto affidata alla società Rarinante. S'è scaduta il primo dicembre. Per conseguenza dello scioglimento del Consiglio Comunale. Non è stato emanato alcun provvedimento per la proroga. La società si appella al prefetto e al commissario. Poi, fallito un secondo colpo. Spianato con la Ruspa, un altro distributore. Ancora ladri in azione con Ruspa. In un distributore di benzina. Questa volta sono state spianate le colonnine del self-service nell'impianto IP di Piane Sant'Atto. Un altro colpo, ma senza Ruspa. È stato tentato a Campli, ma è fallito. Il GIP sequestra 11.000 euro. Carabiniere indagato per truffa allo Stato. Questa è la notizia di cronaca giudiziaria. Passiamo all'edizione aquilana, sempre del quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura. Treni, nuove fermate per i pendolari. All'Aquila, potenziamento della linea che collega la città con Sulmona e Terni. Andiamo a centropagina. Nella fotonotizia rubarono la reliquia di Voitila. Serviranno i poveri. All'Aquila, i ladri in prova. Alla mensa di Celestino. E poi, nelle cronache, andiamo a vedere sempre dal capoluogo di Regione Casa Fuoco, i vicini, può accadere ancora. I residenti di Via Svizzera, dopo l'incendio di un'abitazione che poteva avere conseguenze catastrofiche se fossero esplose le bombole che erano dentro, hanno inviato una lettera al Sindaco per chiedere che la casa inagibile resti chiusa e non vi entri il proprietario accusato di aver appiccato l'incendio, temendo nuovi episodi. Ad Avezzano, scontro sulle spese degli addobbi natalizi e guerra sulle cifre per le iniziative di Natale tra gli ex assessori comunali della Giunta di Pangrazio e l'attuale guidata dal Sindaco De Angelis. Al fatti appetiti, la Giunta precedente aveva speso 70.000 euro. Noi ci siamo fermati a 58.000. A Sulmona, poi, uffici Asl, nuova sede con 250 posti auto. Cambiamo testata. Ora passiamo alla prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il titolo di apertura è sugli interrogatori di ieri in procura a Pescara. Rigopiano, gli orari del prefetto. L'inchiesta sulla strage. Francesco Provolo risponde ai PM di Pescara e consegne verbali del centro di coordinamento dei soccorsi che è convocato il 16 gennaio. Noi non ci siamo attivati tardi. Questa è la dichiarazione resa ai magistrati. La documentazione che abbiamo prodotto, leggiamo dallo stralcio dell'articolo a pagina 38 del collega Cirillo, riguarda la convocazione del centro di coordinamento dei soccorsi che già alle ore 10 del 16 gennaio era stato attivato e non alle ore 12 del 18. Abbiamo documentato anche tutte le attività seguenti con tanto di verbale da dove si evince la presenza di enti e forze di polizia presenti. L'avvocato dell'ex prefetto di Pescara, a riassumere la linea difensiva di Francesco Provolo, interrogato ieri nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Rigopiano. Poi andremo a vedere nella seconda parte anche il servizio relativo proprio agli interrogatori e alla dichiarazione resa dall'avvocato Cagliazza. E poi Lanciano, l'accusa di lesioni, indagati i genitori della bimba ustionata, sono indagati in concorso per lesioni aggravate. I genitori della bimba di 13 mesi di Lanciano, ricoverata ai gemelli di Roma, dopo essere rimasta ustionata con acqua bollente, caduta da una pentola il 4 dicembre scorso. Andiamo a centropagina adesso. Altra brutta notizia perché un'altra morte sul lavoro. Operaio precipita da una scala e muore sul colpo. Cepagatti, tragedia sul lavoro in un'azienda. La vittima è un kazako regolarmente assunto. Ennesimo incidente dunque per un 44enne operaio originario del Kazakistan. L'uomo Vladimir Zorau stava lavorando su una scala all'interno dell'azienda di Cepagatti di cui risulta dipendente quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra dopo aver fatto un volo di circa 4 metri. Inutili tutti i tentativi di soccorso. L'operaio è praticamente morto sul colpo. L'episodio ovviamente oggetto di indagini da parte dei carabinieri della stazione di Cepagatti insieme a quelli della compagnia di Pescara sul luogo della tragedia e anche gli ispettori dell'ufficio Tutele e Salute nei luoghi di lavoro dell'Asla per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e contrattuali. La tragedia si è consumata all'interno della ditta Collina SRL in contrada Bucceri che tratta macchine agricole per giardinaggio e pulizia industriale. Questo è l'estratto dell'articolo a pagina 45 di Alessandra Di Filippo. Poi le spine della mobilità pace fatta fra sindaco e assessore Pescara avanti con le piste ciclabili dalla minaccia di dimissioni al pieno appoggio al sindaco Marco Alessandrini e così l'assessore della mobilità Stefano Civitarese ha avuto il via libera per il progetto piste ciclabili. Scendiamo nel taglio basso e troviamo la vicenda che riguarda il Megalo 2 stop al cantiere per la costruzione del nuovo centro commerciale doppio esposto in procura e il controordine è arrivato a metà pomeriggio di ieri dopo che alle 8.30 del mattino una grossa ruspa con alcuni operai erano entrati nell'area in cui dovrebbe sorgere Mirò, così si dovrebbe chiamare il secondo Megalo per ora ed è questo il clamoroso dietrofront, niente lavori e niente scavi, nessuna alterazione dei luoghi che avrebbe potuto determinare l'intervento della polizia giudiziaria. Lo stop si ricava fra le poche righe di un comunicato dell'ingegner Domenico Merlino che è il direttore dei lavori. Andiamo a vedere adesso di spalla quando l'arte nasce dai tappi delle bottiglie di vino bianco rosso green, apre a Roma la mostra curata da Manuela Corneli dell'Ais. E poi andiamo nel taglio alto, l'Aquila, il vento favolare e la copertura del tetto dell'ex distretto e poi Teramo, carabiniere indagato, era lui il furbetto del cartellino. E ancora Pescara, sanità in affanno, turno infinito, infermiera al lavoro per 15 ore consecutive. Il caso denunciato dal Nursind si è verificato nel reparto geriatria durante il ponte dell'Immacolata. La ASL corre ai ripari. Ed ora siamo sulla città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura è questo qui, carabiniere indagato per truffa. Ex comandante della stazione di Nerito avrebbe ottenuto le indennità per servizi mai svolti. Nel taglio alto, Val Vibrata, carabinieri investiti dai ladri in fuga. E poi a Biella, rave illegale, denunciati alcuni giovani teramani. Andiamo a centropagina per vedere la fotonotizia. Patenti pericolose perché sulla Teramo Mare un'anziana esce contromano dalla stazione di servizio. Troviamo di spalla Teramo al voto, Sciamanna segretario per Renzo candidato. E poi Giulianova al cimitero, 7 mila loculi nuovi in sei anni. Ancora incidente diplomatico sulle assunzioni. Roseto, sindaco furioso per lo scontro fra Frattari e Tacchetti. E poi troviamo anche il commento di Marcello Martelli. Territorio in fuga, il titolo. Nel taglio basso invece la nomina prestigiosa. L'avvocato Teramano Pelillo, unico italiano nella FIA di Jean Todd. Lasciamo adesso le prime pagine regionali e ci spostiamo sui giornali nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Titolo di apertura. Bomba a New York, torna la paura. Attentatore voleva corpire Times Square. Bloccato, parla di una vendetta per i raid israeliani. L'allarme, azionato il detonatore nel tunnel che collega la metropolitana alla stazione dei bus. Quattro i feriti dall'ordigno artigianale. Qui vedete proprio gli attimi di paura seguenti al tentato. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Pagò il furto del virus spia. Gli USA fermano i PM. Attacco a Hacking Team. Milano costretta ad archiviare. Andiamo nella prima pagina della Repubblica. Il titolo di apertura. La manovra salva i vitalizi. Il PD Grasso può ancora abolirli. Siamo alla politica interna. Ovviamente Renzi prepara la coalizione a quattro con Bonino. Ulivisti e centristi. Consip intanto interrogato. Il generale. A centropagina questa grande foto di Vladimir Putin. Dalla Siria all'Egitto. Il trionfo di Putin. New York. Attentatore. Si fa esplodere. Volevo vendicare Gaza. E l'altro titolo di primo piano sulla Repubblica. Andiamo sulla stampa. Anche qui il titolo è dedicato alla paura. New York per il kamikaze fra i pendolari. ha raccontato di voler vendicare Gaza. L'Isis. Attaccare ovunque l'America. Trump. Pena di morte per i terroristi. Un bengalese di 27 anni. Aveva indosso una bomba artigianale. A centropagina la fotonotizia. Nel nord la mossa di neve e ghiaccio. Ferrovie autostrade in tilt. In Val Susa. Salvati 10 migranti diretti in Francia. Passiamo ora sul fatto quotidiano. Il titolo di apertura a scuola dei giudici. Foto hard. Ricatti sessuali e pedinamenti. Il consigliere Bellomo. Le accuse e i racconti delle candidate. Usava infiltrati. Gli atti del processo in Cassazione. Aveva profili Facebook falsi. Per carpire notizie sulle borsiste. A chi non obbediva. La minaccia di non passare al concorso in magistratura. Le strane previsioni sulle selezioni. E poi il caso Consip. Salta la macchia a quattro ore coi PM. Ma oggi potrebbero promuoverlo. Il generale sarebbe tra gli autori della fuga di notizie verso Tiziano Renzi. Andiamo nel taglio alto. Vicenza città col buco. Processa la sua banca. In tribunale. In ginocchio un intero sistema di potere. Poi i medici contro i tagli. Stop a 40.000 interventi. Sciopero. Dal 2007 sono 9.000. I camici bianchi in meno. Andiamo sul sole 24 ore. Adesso il principale quotidiano economico e finanziario italiano apre con i Bitcoin record. Con il future alvia i derivati a Chicago. La criptovaluta torna sopra 16.000 dollari. Sulle scadenze di marzo la valutazione supera i 18.000. Le grandi banche statunitensi non si fidano della maxi volatilità. E poi a centropagina per quanto riguarda il mondo dei media. Negoziato a rush finale Disney più vicino a Mardo. Cooperazione da 60 miliardi. E poi business nel cinema. Il peso di Netflix e gli altri. Guerre stellari sui contenuti. Così Hollywood perde terreno. Scendiamo ancora. Il fisco. Ministri dell'Unione Europea contro Trump. A rischio commercio e regole sulle tasse. Allarme della Cina. Lettera di Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna. Al segretario al tesoro degli Stati Uniti. Nel tradizionale focus del taglio alto del sole. Versamenti, IVA e split payment. Acconto da ricalcolare. Ora il manifesto. Il quotidiano comunista. Il titolo sulla fotografia. L'investimento. Andiamo a vedere perché. A Napoli, sfilata di governo per il convegno avere vent'anni al sud. Il premier Gentiloni esalta le condizioni vantaggiose per chi vuole investire e creare lavoro. Mentre si parla di loro, gli studenti e i disoccupati che protestano fuori. Vengono tenuti lontano con le cariche della polizia. E poi nel taglio alto esplode ordigno rudimentale nella metropolitana. L'incubo ISIS torna a ferire Manhattan all'ora di punta. E poi il caso Israele-Palestina. Gerusalemme. L'Unione Europea non segue Trump. Quinto giorno di protesta palestinese. Appunto con l'Unione Europea che non segue il presidente statunitense sul riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele. Il messaggero ora, anche qui il titolo è sugli esteri, una bomba per vendicare Gaza. New York bengalese tenta di farsi esplodere tra la folla nella stazione dei bus e resta ferito. E' un ex tassista di Brooklyn negli States da sette anni. Ho agito dopo l'attacco contro i palestinesi. E' come reazione in America con i visti che Trump vuole abolire. E poi andiamo a centropagina. Bancomat più facile per negozi artigiani. Multe per chi rifiuta. Arriva il decreto. Giù le commissioni bancarie. Sanzione da 30 euro per chi non accetta le carte. A centropagina nella fotonotizia il calcio. Champions. Buon sorteggio per la Roma. C'è lo Shakhtar. Intanto ieri nel posticipo. Follia Lazio che resta in dieci per l'espulsione di Immobile. Il Toro l'affonda. Partita finita 1-3. Andiamo sul quotidiano il tempo. Restando ai giornali romani. La RAI profana. La tomba del Duce. Il titolo di apertura. Incredibile servizio di Agoraco. I partigeni dell'Ampi. Dentro la cripta di Benito Mussolini. La nipota Alessandra. Minaccia denunce. Il sindaco di Perdappio. Chiedo scusa alla famiglia. Poi a centropagina. Da maggio si pagherà per entrare al Panteon. Questa la decisione del Ministero. Protesta il Campidoglio. Di spalla lo Sport. Lazio sconfitta 1-3 dal Torino. Se questo è un arbitro. E poi c'è ovviamente il sorteggio di Champions. Con la Roma che ride. Sarà sfida con lo Shakhtar. Su Libero. Ancora quotidiani di centrodestra. Epatite C. Emergenza. Il governo disattende l'impegno di curarla. In Italia la terapia costa il doppio che altrove. Risultato solo un terzo dei malati. Ha accesso ai farmaci. E per darli a tutti. Ci vogliono 43 anni. Chi specula sui medicinali. I contratti del Ministero sono secretati. Intanto muoiono 13 mila. persone l'anno. Andiamo sul giornale adesso. I deliri elettorali. In apertura di maio. Abolisce lo shopping. Il candidato premier dei 5 Stelle. Vuole negozi chiusi durante le festività. Bersaniani già spaccati sul simbolo. E tra parentesi. Sulle donne. Ora il titolo della verità. E sulle banche. Così Banca Italia premeva su Zonin. Affinché salvasse Banca Etruria. Crack popolare di Vicenza. Rivelazioni esclusive all'avvio del processo. Parla Adriano Cauduro. Il vice direttore generale. Della Banca Popolare di Vicenza. Mai sfiorato dalle indagini. Maria Elena Boschi. Incontrò il DG Sorato. Dovevano assumere figli e generi. Di prefetti e parenti di politici. Come Galan o Schifani. E poi a centro pagina. I prestiti allegri a De Benedetti. Hanno rovinato Monte dei Paschi. Il secolo d'Italia. Invece cambia tema. In apertura. L'invasione di Natale. Migranti continuano gli sbarchi a raffica. Ancora esodi biblici. Ancora rivi fiume. E chi negli ultimi tempi si era abbandonato. Alla più illusione che gli approdi fossero diminuiti. Almeno un po'. Si deve arrendere all'amara verità. In primo piano. Nel taglio basso. New York ancora sotto attacco. Il terrorista è un bengalese. Poi dicono all'estremismo. Ma basta bandiere rosse. Queste le parole di Salvini. Gelicidio. Nuovo parolone. Cosa vuol dire davvero? Questa parola. Che è spuntata sulle prime pagine di morte. Scusate. Di molti giornali. A proposito di persone che hanno avuto problemi con neve e ghiaccio. E molto spesso purtroppo persone che non ce l'hanno fatta. Andiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico apre con questa esortazione. Mai abbandonare. Bassetti sul fine vita. Dare da bere non è una terapia. Importante rispetto dell'obiezione di coscienza. Da oggi al Senato si decide sulla legge per il biotestamento. Il Papa per la giornata del malato. Persona al centro. No all'aziendalismo. Andiamo a centro pagina. Putin in Siria. Via al ritiro delle truppe. Su Gerusalemme. Il no europeo. A Stati Uniti. E Netanyahu. Andiamo adesso a vedere il titolo principale del mattino di Napoli. Napoli. Gentiloni. La scossa per il Sud. Il premier e i ministri al convegno del mattino su giovani e lavoro. De Vincenti. Impegno costante per fermare la fuga dei cervelli. Così il ministro per il Sud. È ora di investire. Condizioni mai così favorevoli. Calenda. Mancano politici efficienti. Queste le parole del ministro delle attività economiche. E poi andiamo a centro pagina. Bomba New York. La folle vendetta. Tassista originario del Bangladesh. Tente di farsi esplodere a Manhattan. Panico a Times Square. Di spalla. Troviamo i sorteggi di Europa League. C'è illipsia. Pensiamo allo scudetto. Così il tecnico del Napoli. Sarri. Il secolo XIX. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Liguria ferita. Notte di paura. Treni K.O. Il ghiaccio paralizza la circolazione con Piemonte e Lombardia. Le polemiche. La rabbia dei passeggeri. La regione attacca le ferrovie. Allevante. Esondati. Entella. Magra. Crolla la passeggiata a vado. Prolungata l'allerta per questo maltempo che sta flagellando il nord Italia. E poi nel taglio alto ritroviamo quanto accaduto a New York. Kamikaze in stazione terrore nella città statunitense. La mia vendetta per i ride a Gaza. Lasciamo i quotidiani generalisti. Andiamo su quelli sportivi. La prima pagina della Gazzetta dello Sport. Per il sport prendiamoci l'Europa. Il sorteggio è benevolo. Schieriamo sei squadre. Tutte possono andare avanti. Per la Juve c'è Harry Kane. La Roma trova gli ucraini. In Europa League impegni semplici per Lazio e Milan. Doppio confronto tedesco per Napoli e Atalanta. Che ha il compito più duro. Vedete qui tutti gli accoppiamenti. Per la Champions League così gli ottavi. Juventus Tottenham e Shakhtar Roma. E poi in Europa League i sedicesimi delle italiane. Borussia Dortmund, Atalanta, Napoli, Lipsia, Steaua, Lazio e Ludo Goretz, Milan. Andiamo a vedere di spalla duelli crudeli tra CR7 e Neymar. Uno andrà a casa. Conte atteso dalla prova Messi. Real Paris Saint-Germain come una finale anticipata. Chelsea-Barsa. Altro super incrocio. Siviglia per Mourinho. Basilea per il City. Questi gli altri sorteggi di Champions. E poi andiamo a vedere questa notizia sulla Juve. Nedved scuote di bala. Lavoro e rinunce. Il vicepresidente Bianconero. In certi momenti servono sacrifici anche nella vita privata. Scendiamo nel taglio basso. Ottavi di Coppa Italia. C'è l'Inter 2 per domare il Pordenone dei Miracoli. Friurani che militano in Serie C a San Siro alle 21. Spalletti con Caramò e Cancelo. I posticipi di Serie A. Immobile vede rosso. Poi si scatena il Toro. A Roma 3-1 dopo l'espulsione di Ciro. C'era un rigore furia della Lazio. Alle 19 in scena. Genoa-Atalanta. Andiamo sul Corriere dello Sport. Il titolo di apertura. Var Gogna. Questo è il titolo scelto per commentare l'espulsione di Immobile. Moviola a senso unico. Ignorato un rigore per la Lazio. Cartellino rosso e Immobile. Il Toro vince 3-1. Tare uno scandalo. Serve rispetto Lazio furiosa per quanto accaduto ieri. Nel taglio alto Di Bala fai vita da atleta. Questa è la stoccata di Nedved dall'argentino. Ci vogliono maggiori sacrifici. Juve cosa c'è dietro? La crisi del giovane fuoriclasse Juventus che in Champions, come ricorda questa grafica, incontrerà il Tottenham. Andiamo a vedere tutto sport. Il titolo di apertura. Questo gran toro è il trionfo di Mihailovic. Sulla partita giocata ieri contro la Lazio. Nel taglio alto Juve sorteggio duro solo un pocettino. Questo è il gioco di parole. Il Tottenham del tecnico argentino per gli bianconeri negli ottavi di Champions. Nel taglio basso la Coppa Italia. Il Pordenone e il Superbond. Inter che è novità per quanto riguarda la partita delle 21. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con Meteo 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione. Lo facciamo riaprendo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Partiamo dal messaggero. L'inchiesta su Rigopiano. L'ex prefetto nell'interrogatorio ho chiarito tutto. La difesa di provolo prodotti atti non in possesso della procura. Il capo di gabinetto bianco ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Sono iniziati proprio ieri gli interrogatori davanti ai magistrati. Gli avvocati abbiamo offerto un contributo che potrà essere utile per meglio inquadrare la vicenda. Domani davanti ai magistrati rappresentanti della provincia con in testa il presidente Di Marco. E qui vengono anche ripercorse le tappe di questa tragedia. A partire dal 18 gennaio quando la valanga si è abbattuta sul resort. Poi il 19 l'arrivo dei soccorsi all'alba. Il 20 i bambini salvi quasi in maniera miracolosa. Il 26 gennaio il recupero dell'ultimo corpo dell'ultima vittima. E il 23 di novembre la svolta delle indagini con l'inchiesta che si è allargata a 23 indagati. Andiamo a vedere quest'altra notizia del taglio basso. Sciopero di tutte le sigle sindacali. Oggi si blocca la sanità abruzzese. Ospedali e presidi asle garantiranno soli i servizi essenziali. Sit-in stamane alle 11 a Pescara. Andiamo sul quotidiano Il Centro. Anche qui in primo piano ci sono gli interrogatori sull'inchiesta di Rigopiano. Rigopiano Provolo parla e presenta ai magistrati il documento che lo scaggiona. L'ex prefetto ascoltato per tre ore in procura a Pescara è indagato per i ritardi ma si difende. Mostra foglie firme della riunione di due giorni prima ma la procura ora deve verificarli. Gli avvocati Cagliazze della Rocca è la prova documentale dell'operato impeccabile dell'ex prefetto di Pescara. L'ex capo di gabinetto bianco si è avvalso della facoltà di non rispondere. Non si è presentata la De Cesaris. Allora andiamo a vedere insieme il servizio. Sono iniziati questa mattina gli interrogatori presso il tribunale di Pescara dei 23 indagati per la tragedia dell'hotel Rigopiano dove in seguito alla valanga del 18 gennaio scorso morirono 29 persone. Il primo ad essere stato ascoltato dal procuratore capo Massimiliano Serpi e dal sostituto Andrea Papalia è stato l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo che qualche settimana fa ha lasciato il capoluogo adriatico per ricoprire l'incarico di direttore dell'ufficio centrale ispettivo presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile a Roma. Al termine dell'interrogatorio queste le parole del legale di Provolo. Il prefetto ha reso tutti i chiarimenti necessari anche attraverso la produzione di documentazione che non era in possesso della procura e che a nostro avviso chiarisce in modo definitivo la piena correttezza dell'operato del prefetto. Fatto il proprio dovere, ripeto, mi pare che il dato rilevante di questo interrogatorio è la produzione di documentazione che non era in possesso degli inquirenti e che credo abbia risolto in modo, per il nostro punto di vista, definitivo la ricostruzione dell'operato impeccabile di un funzionario. La documentazione riguarda l'effettiva avvenuta convocazione del centro di coordinamento soccorsi già alle 10 della mattina del 16 di gennaio. Quindi non il 18 a mezzogiorno come sostiene la procura? Come la procura era indotta a sostenere dalla documentazione fino in questo momento in possesso e che era per qualche ragione lacunosa. La provincia, i vigili del fuoco, i carabinieri, la forestale, erano tutti presenti a questa riunione. Non i sindaci? No, no, c'erano anche, a conferma di quanto fosse nota questa riunione, ancorché convocata per le vie brevi, come si fa nei casi di urgenza, quindi telefonicamente, eccetera, c'erano anche presenti 3 o 4, mi pare, sindaci di comuni che avevano evidentemente da rappresentare delle urgenze in quel momento, che erano presenti, sono presenti i sindaci di... Si ricorda di quali comuni? Sì, aiutami, Città Sant'Angelo, Cipagatti, Montesilvano, quindi erano presenti. Altri sono stati raggiunti con comunicazioni mail o hanno raggiunto il CCS con comunicazioni mail, stiamo parlando sempre del giorno 16, del giorno 16 di gennaio. Sempre questa mattina è stato ascoltato l'ex capo di gabinetto della prefettura, Leonardo Bianco, mentre ha chiesto un rinvio dell'interrogatorio la dirigente della prefettura di Pescara, Ida De Cesaris. Andiamo avanti sul quotidiano Il Centro, braccia incrociate, protesta dei medici, sciopero di 24 ore per Italia, la sanità, doppia manifestazione questa mattina all'Aquila e Pescara, ecco i motivi spiegati da ANAO e Inter, sindacale sanitaria. E poi nel taglio basso, gli aiuti della regione, danni dalla grande nevicata, fondi a 40 comuni. Andiamo a vedere quest'altra notizia, nella pagina precedente, crollo degli alberi e emergenza. Parte l'appello a comuni e province dei dottori agronomi forestali d'Abruzzo, l'esperto Colarossi per il codice civile, la responsabilità dei danni e dell'amministrazione pubblica e dei privati, subito un piano di messa in sicurezza. Ieri ci sono stati disagi in diversi comuni abruzzesi per il vento forte a causa della caduta degli alberi. Noi andiamo a vedere cosa è accaduto ieri pomeriggio a Lanciano. Alberi abbattuti e un tetto scoperchiato, tutto a causa del vento che soffia impietuoso a Lanciano dal primo pomeriggio, con raffiche intorno agli 80 km orari. Il comune è istituito il centro operativo con ordinanza firmata dal vicesindaco Giacinto Verna. Sono state attivate le funzioni tecnica, viabilità e volontariato, coordinate rispettivamente dall'ingegner Fausto Boccabella, Gabriele Dell'Elce del comando di polizia municipale e Claudio D'Angelo. Spavento in via Perfossacesi, all'altezza della villa comunale, e in via Santo Spirito all'ingresso del circolo tennis. Gli alberi sono caduti in mezzo alle carreggiate, causando danni solo ad alcune auto in sosta. Fortunatamente nessun passante è rimasto coinvolto. Maggior spavento tra i residenti delle palazzine di via Perfossacesi, a dove alcuni rami hanno invaso i balconi degli appartamenti. In via del mare la caduta dal tetto di un edificio privato, delle tegole e altro materiale ha causato la temporanea chiusura al traffico della strada. La polizia municipale è impegnata con le altre forze dell'ordine e vigili del fuoco su diversi fronti per regolare il traffico e convogliarlo su percorsi più sicuri. I due grandi alberi caduti sulla strada in via Santo Spirito e via Perfossacesia saranno rimossi con l'ausilio dei mezzi di una ditta privata e dei mezzi comunali. L'amministrazione lancia quindi un appello alla cittadinanza, prestare la massima attenzione nei limiti del possibile e uscire solo per necessità. Il vento impetuoso nella nostra zona continuerà a soffiare secondo le previsioni del centro funzionale d'Abruzzo per le prossime 24 ore e quanto mai necessaria la massima premura per evitare danni a cose e soprattutto alle persone. Il dibattito all'università d'annunzio sulla pagina Abruzzo del messaggero per fermare i corrotti non basta l'azione penale. Chieti Lenini e il Vescovo Forte affrontano il tema della questione morale per il vicepresidente del CSM. L'etica, il diritto e la legalità sono indivisibili e oggi in consiglio arriva l'esperimento SOX caso Gran Sasso. Ecco l'appello di Lega Ambiente che si batte per salvaguardare l'acquifero. Andiamo nelle cronache di Pescara, sempre sul quotidiano Il Centro. L'apertura è dedicata alla tragedia a Villanova. Lavoratore cade da una scala e muore. L'operaio di 44 anni stava ripulendo i locali di un'azienda quando è precipitato da 3 metri. Inutili i soccorsi del 118. E poi l'appello del neosegretario ondifero, appello della CGL alle imprese, bisogna investire in sicurezza. Ancora i controlli di Natale in assi in una torrefazione dopo l'allarme dei clienti e nel taglio basso rave party nei guai anche degli abruzzesi individuati tra gli 11 organizzatori di una festa non autorizzata in Piemonte scattano le denunce. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina Abruzzo sul messaggero. Vince Civitarese avanti con le ciclabili. L'abbraccio plateale del sindaco Alessandrini conferma la fiducia dell'assessore autore del piano per la mobilità. A conclusione degli stati generali l'annuncio dell'inizio dei lavori per la pista ciclabile di Viale Muzzi. A gennaio le ruspe saranno in azione. Dalla minaccia di dimissione al chiarimento serve coerenza per realizzare i nostri progetti. È stato l'appello di Civitarese. Andiamo avanti sul messaggero, sempre dalle cronache di Pescara, ma anche il sostituto infermiera al lavoro per 15 ore. Caso a geriatria durante il ponte dell'Immacolata. Il sindacato Nursind denuncia la carenza di personale. La ASL corre ai ripari. Una task force di operatori sanitari per fronteggiare possibili emergenze, soprattutto sotto le festività natalizie. Andiamo avanti. Operaio cade dalla scala e muore. Abbiamo già visto in precedenza la tragedia alla ditta collina di Cepagatti. L'operaio, 44 anni, ha perso l'equilibrio ed è precipitato da 4 metri. Ennesimo incidente mortale nel Pescarese. Indagano i carabinieri. Inutile l'allarme lanciato dal titolare dell'azienda. L'operaio era assunto in maniera regolare. Questo per quanto riguarda la cronaca nera. Nel taglio basso, ancora cronaca, anzi hanno sparito. Si cerca ancora Vincenzo Perruzza, commercialista in pensione di 74 anni di popoli, di cui si sono perse le tracce lo scorso 20 di novembre. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Continuiamo con la lettura delle cronache di Pescara. Infermiera al lavoro. Abbiamo già visto per oltre 15 ore insorge il nursing. E poi lo show in aula del Consiglio Comunale e del centro-destra. Ecco l'assegno per il mercatino. Singolare protesta degli esponenti dell'opposizione per contestare la realizzazione dell'opera. In Consiglio Comunale si va avanti fino a tarda sera per esaminare un migliaio di emendamenti. Poi ritroviamo l'abbraccio fra Alessandrini e Civitarese. Civitarese non si dimetterà. Il sindaco conferma la fiducia all'assessore alla mobilità. Andiamo avanti. Furto di oli esausti. Due le condanne. Un anno e due mesi per Carlo Benincaso. Titolare dell'Adriatica Ambiente. Il dipendente Massimo Aquilano. Ancora nella pagina. Guerino riprendiamo l'insegna del Gabbiano. Italia Nostra. Questa la proposta. E poi piovono piastrelle. Danni alle auto a casa delle raffiche di vento forte. Sulla pagina di Montesilvano. Multe più salate. Se fido fai bisogno ai giardinetti. Giro di vite del comune contro i proprietari scorretti. Sanzioni da 500 euro per chi allena cani da combattimento. E poi per la pubblica illuminazione. Lampioni intelligenti. Wi-Fi e telecamere. Ok. All'appalto. vedete i lampioni sul lungomare di Montesilvano. Andiamo ancora nell'area metropolitana. Tempo di Natale. Luciani sigla la pace anche con Ricci e Conti. Dopo l'armistizio con il patron del Francavilla Candeloro. Il sindaco ritrova l'accordo anche con i progettisti della Torre Sirena. Archiviato nel concorso di idee. Protesta MDP. Anche perché c'è stato il riconoscimento da parte del Ministero dei Beni e dell'attività culturali e del turismo come opera d'arte quella appunto della Torre di Palazzo Sirena. Andiamo avanti. Ritroviamo la notizia delle ricerche con i cani detective di Perruzza. Popoli si cerca il 74enne scomparso. Sono arrivati da Bologna, Ascan e Simba. Rilevano tracce umane sotto l'acqua. Nel taglio basso. Ampi ricorda Petronio, il martire di Corvara. Il giovane 23 anni fu ucciso dai tedeschi nel 43 perché aiutava i prigionieri alleati. Ora la pagina dell'Aquila a Pettino. Dopo l'esplosione evitata. Abitazione a fuoco. La rabbia dei vicini. Lettera al sindaco impedire la riapertura di quella casa. I carabinieri contestano a Cocuzzi il reato di danneggiamento. Sul Gran Sasso sono stati recuperati tre escursionisti da un finanziere dal soccorso alpino. Le persone erano in difficoltà sulla montagna. Poi i ladri sacrileghi della Ienca serviranno il pasto ai poveri. Due giovani rubano le reliquie di Giovanni Paolo II. Questa è la loro pena. Nel taglio basso, treni, due nuove fermate in periferia per i pendolari a L'Aquila. Andiamo sempre alla pagina dell'Aquila sul messaggero in apertura. Ex distretto militare in centro. Il vento fa volare la copertura. Attimi di paura per le pesanti tavole di legno piombate sulla strada sfiorando le vetture. Solo per una fortunata coincidenza l'episodio non ha provocato gravi conseguenze. Se torna ad attualità il tema della sicurezza degli edifici danneggiati dal terremoto. Continuiamo. Treni, due fermate nuove verso la metro. Inaugurate le due mini stazioni a Bazzano e Campodipile e Morellina di RFI. Completati gli interventi per la mobilità urbana. Mannetti e l'Iris, progetto del 2009. Va ripensata la sua utilità a Pietrucci. La città deve essere centrale nella partita del ferro. Andiamo ancora avanti nella pagina di Avezzano sul Mona. Ancora trasporti, treni soppressi, si torna in Parlamento. Stavolta sono la senatrice Pezzopane e il deputato Melilla a porre il problema al Premier Gentiloni e al Ministro del Rio. Col nuovo orario tagli nell'Aquilano. Altrove solo potenzialmente amministrazioni marsicane silenti. Collegamenti a rischio. Andiamo nella pagina di Chieti adesso. Ecco qui. Troviamo il Megalo 2. Lavori subito fermi. In procura un doppio esposto. Nel cantiere è entrata una ruspa ma l'impresa ha dato lo stop. E ora in attesa dei permessi il Genio Civile riscontra anomalie. La mese in sicurezza avviata prima dell'autorizzazione. Ieri pomeriggio è arrivato lo stop da parte dell'Asile che ha la proprietà dei terreni dove dovrebbe essere costruito il nuovo centro commerciale. Andiamo a vedere insieme il servizio. Siamo qui per chiedere che vengano rispettate le leggi e che questi lavori bocciati dal Comitato Via della Regione Abruzzo vengano finalmente annullati con un intervento deciso della Regione e dei comuni interessati e si cominci finalmente a respirare e a capire che i fiumi non vanno più toccati. Una provocazione. Così gli ambientalisti e le associazioni dei commercianti hanno definito il cartello di inizio lavori apparso questa mattina nel terreno dove dovrebbe sorgere il Megalo 2, proprio davanti il centro commerciale inaugurato nel 2005. Il cartello omette alcune informazioni necessarie e dicono a partire dalle autorizzazioni, molte delle quali sono già scadute o in scadenza. Il Comune di Chieti, su cui in parte ricadrà l'opera, per buona parte invece nel territorio di Cepagatti, chiede l'istituzione di un tavolo per riconsiderare il progetto facendo ripartire l'iter di valutazione ed impatto ambientale. Il Comune di Chieti si è anche espresso con un atto formale, cioè una diffida all'asile costruzioni, a non iniziare i lavori perché per noi è ancora valida l'ordinanza di sospensione del gennaio 2014 del genio civile. Tecnicamente chiediamo un tavolo di lavoro in cui si vadano ad analizzare le diverse problematiche, quella di tipo giuridico, quella di tipo commerciale, di tipo economico e soprattutto di tipo ambientale. Secondo noi dovrebbe ritornare al via, quindi riniziare un iter. Oggi siamo alla scadenza definitiva, cioè 31 dicembre 2017. Se entro questa data i lavori non sono iniziati, decadono i progetti plus. E quindi è questo che l'impresa vuole evitare facendo fin da che tutto procedi. La questione Megalo 2, oltre a riguardare la tutela dell'ambiente perché sorge sulla cassa d'espansione del Pescara, ha carattere socio-economico. Un altro polo di grande distribuzione infatti rischia di ammazzare definitivamente il piccolo commercio della zona di Chieti. Per questo esercenti, ambientalisti e politici stamattina hanno presidiato il cantiere, dove però attualmente non si sta lavorando, c'è solo una gru e qualche operaio in perlustrazione. Chieti non ha bisogno di un nuovo insediamento commerciale. Questa ulteriore cementificazione andrebbe a decretare la fine non solo del piccolo commercio e dei piccoli artigiani, ma la fine della città stessa, perché si sta creando una città nella città. Ci sono studi che dimostrano il fatto che per ogni posto di lavoro che si guadagna con l'apertura di un centro commerciale se ne perdono sei nelle attività tradizionali. Quindi tutti questi commercianti che sono qui oggi sono destinati a chiudere bottega se Megalò 2 dovesse essere costruito. La posizione della Regione Abruzzo viene affidata ad una nota dell'assessore Paolucci, in cui si ribadisce che il Comitato Via, già nel marzo scorso, ha giudicato improcedibile la richiesta di modifica del progetto e ha prescritto come obbligatoria, prima dell'avvio di qualsivoglia attività realizzativa, la verifica dell'efficacia delle opere di messa in sicurezza ai fini idraulici. Paolucci ricorda che lo scorso 7 dicembre sono state segnalate alla Procura della Repubblica di Chieti alcune anomalie riscontrate nella documentazione presentata dall'azienda costruttrice, la Sile Costruzioni. Non permetteremo, termina l'assessore al bilancio della Regione Abruzzo, che si evitino le procedure previste dall'ordinamento e soprattutto diciamo no alla decadenza ambientale, alla diffusione di situazioni di pericolo e alla rovina ulteriore del commercio della zona. Vicenda Megalò che ritroviamo anche sulla pagina di Chieti del centro. Nuovi per mercato a Chieti Scano, dietro front per Megalò. I lavori per ora non partono dopo il sit-in di protesta sul cantiere. Il costruttore dice stiamo soltanto pulendo l'area. Andiamo adesso sulla pagina di Teramo. Banditi in azione, donna schiaffeggiata e rapinata in casa. Casemolino aggredita e derubata dalla pensione appena riscossa. Roseto, un uomo, viene sequestrato dai ladri. Poi c'è stato un nuovo tentativo di colpo alla colonnina self del benzinaio. Una a Campli, una a Piane Sant'Atto. Nel taglio basso, rianimazione aperta ai parenti dei malati. Progetto pilota al Mazzini, potranno stare con i ricoverati nove ore al giorno, senza mascherine e camici. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Teramo sul messaggero. Anche qui la rianimazione in primo piano, apre i familiari, ospedale unico in due mesi. Primo reparto in tutto l'Abruzzo ad introdurre una rivoluzione epocale. Sarà possibile grazie a un biologo, uno psicologo e un fisioterapista in più. Andiamo a vedere anche questo servizio. Si cambia sistema all'ospedale Mazzini di Teramo sulle procedure che da sempre regolano la rianimazione. Da oggi i parenti dei pazienti ricoverati nel reparto potranno visitare i propri congiunti costantemente e non più in quelle ristrettissime finestre temporali di una volta. Si chiama rianimazione aperta ed è la prima esperienza in Abruzzo finanziata dalla regione attraverso fondi europei. Una procedura nuova, una procedura che ci riempie di orgoglio perché diciamo in Italia non ce ne sono tantissime. Che cos'è? È la procedura che consente di mettere i parenti dei pazienti a maggiore contatto in situazioni difficili. Il paziente si trova in rianimazione certamente non è una condizione semplice. Non è semplice neanche quella di aprire la rianimazione perché ovviamente tutto questo deve essere fatto in condizioni di sicurezza. C'è stato uno sforzo degli operatori locali dell'ospedale e della ASL di Teramo per fare un grande passo avanti. Crediamo che nel percorso di umanizzazione delle cure questo di Teramo sia importante. Alla presentazione del progetto rianimazione aperta dell'ospedale Mazzini è intervenuto anche l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci che ha stigmatizzato lo sciopero deciso da tutto il comparto della sanità pubblica per i futuri tagli al personale. È un grande tema nazionale soprattutto il fatto che al momento in cui vi è una ripresa del prodotto interno lordo la spesa invece relativa al fondo sanitario nazionale per parte pubblica continua ad accusare una riduzione in modo proporzionale rispetto al PIL. Siamo arrivati e ci attesteremo intorno al 6,3% mentre qualche anno fa era significativamente più alto. Questo grande tema costringe evidentemente poi alle regioni e tutte le regioni a razionalizzare la spesa. Un passaggio l'assessore Paolucci lo ha riservato anche al futuro ospedale unico di Teramo per il quale sono previsti oltre 200 milioni di euro. La regione secondo me ha fatto il massimo perché nella precedente programmazione le risorse per Teramo erano la metà di quelle previste oggi. Oggi si parla di 80 milioni di euro di finanziamento pubblico più tutto ciò che il finanziamento pubblico insieme anche alle risorse private può scatenare in termini di leva finanziare e quindi arrivare a oltre 200 milioni di euro. L'incontro è stato anche l'occasione per dedicare una targa in ricordo del dottor Giuseppe Altamura, colonna portante della rianimazione generale Teramana, recentemente scomparso e che resta nei cuori di chiunque lo abbia conosciuto e lavorato con lui. Aveva un dono di riassumere in sé più medici, nel senso lui era profondamente, professionalmente diciamo molto preparato, però c'aveva una forte motivazione e aveva soprattutto anche una grande umanità, umanità che esprimeva in modo con l'empatia. E altre notizie dal Teramano sulla città. Truffa, allarma, maresciallo nei guai, l'ex comandante della stazione di Nerito, Evangelini, indagato per aver ottenuto indennità per servizi mai svolti. Andiamo avanti, problemi di Teramo sul tavolo del commissario Luigi Pizzi, che ha incontrato ex amministratori e ex capi gruppo consigliari. Ancora, Sciamanna, segretario per Renzo Candidato, PD Teramano, verso la fine del commissariamento. La rianimazione abbiamo già visto in precedenza. Poi, clienti ignari sul rischio delle azioni Tercas, processo per truffa in aula, il consulente della procura. I pensionati credevano fossero operazioni sicure. I ladri in fuga investiti, i carabinieri, i due militari, finiscono al pronto soccorso, mentre sventano il colpo ai danni di una stazione di servizio. Andiamo a Giulianova, ora al cimitero. 7 mila nuovi loculi in sei anni. La Giulianova a patrimonio punta alla gestione totale della struttura. Il caos assunzione a Roseto, incidente diplomatico tra gli assessori rosetani. Sindaco su tutte le furie dopo la smentita di Frattari sul piano per la pianta organica proposta da Tacchetti. Andiamo adesso sul quotidiano Il Centro per aprire la pagina dello sport. In Serie B i biancazzurri tra campo e mercato. Il Pescara in Romania. Mitrizza ceduto al Craiova. Blitz del presidente Sebastiani a Bucarest. L'attaccante passa per 700 mila euro a titolo definitivo alla squadra di Emanja. Altri a fare in vista. E Gans piace al Brescia. Andiamo a vedere anche l'apertura dell'Abruzzo Sport sul messaggero. Pescara-Novara vale una stagione. Il croce via per Zeman e per la classifica. Le neoretrocessa Empoli e Palermo vanno bene. Annullata la cena di Natale e saltati i permessi. Ma si teme anche la perdita di fiducia dei tifosi. Scendiamo nel taglio basso della pagina. In Serie D l'Aquila. Il club garantisce un altro stipendio. Subito Battistini e i ragazzi stanno tenendo sul campo ottimi risultati. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Di Liberatore e la Curi insieme per un calcio leale. Ieri l'incontro con l'arbitro internazionale abruzzese. Poi la Serie C. Teramo e l'allergia al gol. Ecco la medicina di Tulli. Pensiamo a fare punti. L'attaccante Biancorosso è ancora a digiuno di reti in campionato. Stiamo crescendo. I problemi non devono diventare una ossessione. Sabato la squadra di Asta farà visita alla Reggiana. Rientra calore ma tra i pali potrebbe essere confermato Lewandowski. Il titolo sulla Serie C anche del messaggero. Tulli, Teramo. La pausa farà bene a tutti noi. L'attaccante fino ad oggi ha alternato alti e bassi. Io do sempre il massimo. Firmerai subito per un pareggio con la Reggiana. Ed un successo con il Mestre. Ascoltiamo anche Tulli. Giacomo si respira un po' meglio dopo la vittoria contro il Fano? Sì, decisamente. Perché comunque era una partita troppo importante per allontanarci da quella zona pericolosa. Abbiamo portato a casa tre punti. Adesso cerchiamo di chiudere bene questo fine di campionato e passare le vacanze tranquilli. Immagino che tu ne abbia lette e sentite tante sul reparto avanzato. Ma tu che del reparto avanzato sei parte, cosa pensi di questa astinenza da gol? Io penso che ormai dobbiamo cercare solo di far più punti possibili e non fissarci troppo sul gol. Perché sicuramente dobbiamo migliorare tanto. Perché non è possibile che anche sabato... Sabato in 90 minuti abbiamo fatto pochi tir in porta e sicuramente abbiamo dei limiti. Sabato ci sarà un altro impegno difficile e diverso da quello contro il Fano. Però la Reggiana arriva da una lunga striscia di risultati positivi e non sarà facile. No, assolutamente. È una squadra in salute con buoni giocatori. Non è facile, ma purtroppo in questo campionato tutte le partite difficili. Quindi andiamo là e ce la giochiamo. Firmeresti per un pareggio a Reggio Emiglio e poi magari vincere l'ultima contro il Mestre? Ma se è così sì, firmerei. Però nel calcio non si sa mai perché ci sta anche che andiamo là a fare il colpaccio come a fare una partita da 0-0. Quindi andiamo all'avviso aperto. Abbiamo dimostrato che forse solo il Pordenone ci ha messo un po' i piedi in testa in questo campionato. Quindi andiamo a giocarcela, no? Queste le parole di Tulli al microfono di Ania Cantagalli. Andiamo sullo sport della città. Chiaramente il titolo è sul Teramo. Tre punti pesanti, ma ora serve il mercato. Il Fano si allontana, ma il penultimo posto rimane distante. Solamente cinque punti, a gennaio bisognerebbe intervenire, ma molto dipende dal budget a disposizione, scrive il nostro collega Jacopo Forcella. Torniamo sul quotidiano, il centro. Completiamo la lettura delle pagine dello sport. La serie D, le abruzzesi del Girone F, Bagallini, Vastese, addio. L'Aquila è il giorno della verità. Il difensore lascia gli aragonesi che scandaliano il mercato. In arrivo un portiere. Oggi il CD a rosso e blu. La squadra chiede garanzie. Francavilla. Russo si complica. Andiamo sugli altri sport. Roseto, troppi infortuni, sospeso parte dello staff. Basket di A2, dopo il K-O di Mantova senza Carlino e Ogid a mezzosera. Il club prende provvedimenti per il medico sociale, preparatore e per il fisioterapista. Guardia Grele, la quarta edizione dell'ice triathlon. E poi il judo cinese, gli atleti di Francavilla, Lorito e Meucci, campioni di disciplina a San Francisco. E poi la pallacanestro con il Campi e l'amatori. A caccia della Coppa, Farnesi e Pescaresi si giocano l'ultimo posto utile per la Final Eight. Nel taglio basso, il ciclismo Wisp, ecco gli abruzzesi premiati a San Salvo, consegnati i riconoscimenti agli atleti. Completiamo anche la lettura della pagina dello sport del messaggero. Calo di concentrazione per la Vastese senza tifosi, pare a Recanati, bicchiere mezzo pieno, terza piazza consolidata. Siamo alla Serie D chiaramente. L'Avezzano mostra l'alleggia ai derby dopo la sconfitta con il Pineto. Si aggiunge ai passi falsi con Vastese, L'Aquila e Nerostellati. E ancora il Pineto conferma l'ambizione per i play-off dopo il blitz ad Avezzano. Questa era l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro una buona giornata. L'Aquila e Nerostellati L'Aquila e Nerostellati